ragazzi ajax bayern monaco e si chiude il primo la prima fascia sinistra del tabellone con questa grande partita lo lascio godere a voi le formazioni le vedete in sovrapposizione e quindi andiamo in campo io tanto mi faccio le mie cosette e godetevi questa partita cerchiamo solo di mandare subito in campo così almeno abbiamo un po meno di di download diventano un po più leggeri tanto è stato appostato adesso l'ultima partita del girone così ve le potete vedere chi lo vuole vedere e siamo qui a joan cruys stadio mamma mia andiamo pure avanti godetevi questa partita vediamo cosa succederà lasciamo tutto così tanto non commento perché facciamogliela a giocare a loro vediamo cosa succede arrivi ecco un ufficiale l'abbiamo ti un uomo Grazie a tutti. 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 Ancora Ajax, attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' molto, 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 molto meglio il gameplay di Pes. Grazie a tutti. 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 Tutto originale. E' come se fosse un gioco, è come se... Grazie a tutti. il primo tempo che sta andiamo... andiamo verso la fine. è meglio non fumare... è meglio non fumare... e... 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 è... Sì, è vero, è vero. mi sembra di capire che non c'è speranza di vedere un gol qua poi ho in mente un'altra cosa ma ve la dirò prossimamente attenzione perché qui il po amicano noschi gioca bene raias con una bella squadra io dico che secondo me potrebbe arrivare anche poi vabbè avrà giuro pari san germain però bello questo pallone guarda rimane lì bavardo siamo a dieci minuti dalla fine un pareggio che tutto sommato all'ajax potrebbe andare anche bene perché se per disgrazia fa un gol a monaco il bayern è messo male blind questo è un bel difensore è l'inde giocano giocano a un bel ritmo è piacevole da vedere siamo ormai all'ottanta tresimo poi faremo che metterne un'altra tanto è presto per mangiare così accorciamo le partite ne rimangono poi solo tre d'andata dopo quella che farò dopo ancora attenzione qua ecco il bayern ma qui il bayern io lo vedo già attenzione un pane in mezzo le vandoschi ma attenzione la palla rimane lì 1 0 errore nella difesa dell'ajax e con questo signore qua non bisogna sbagliare un pelo di passera niente da fare guardate che errore facciamolo vedere veloce la palla rimane lì non esce non esce qui è colpa anche nel portiere dov'è uscire sostituzione doppia sabizzer tolissa per entrano buller e toloka di chi è ma che giocatori c'è in banchino porca puttana ah guardate che ha cambiato avete visto che ha cambiato il bayern ha messo 4 2 2 2 si copre ed è giusto che faccia così adesso guardate la cpu ha alzato il baricentro all'ajax ma facendo così rischia di prendere l'imbarcata errore grave del portiere dell'ajax ancora le vandoschi mamma mia goresca nazionali e nazionali tedeschi sane anche lui mi sembra nazionale marc rocca che non è tedesco dal nome però si vede che nazionale ha preso la nazionalità tedesca non lo so oppure gioca nel bayern monaco però magari è un nazionale di qualche squadra presumo magari portoghese o spagnola finisce così vince il bayern monaco fischi pesanti è da capire allora ragazzi ci salutiamo qui ciao 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 ciao